L'uso di modelli e metodi matematici è stato spesso alla base di importantissime ricerche scientifiche. Sebbene storicamente non venga attribuito un premio Nobel per la matematica, proprio un modello matematico fu il vero protagonista dei premi Nobel del 1963. Nella copertina di invito per la cerimonia dell'assegnazione dei premi compaiono infatti due ricercatori britannici, Alan Hodgkin e Andrew Huxley, alle prese con un oscilloscopio che misurava i potenziali di azione di una ragosta. I due ricercatori riuscirono a piazzare degli elettrodi dentro le cellule nervose di questi animali e a misurare i potenziali di reazione. Il contenuto rivoluzionario dello studio di Hodgkin e Huxley fu proprio quello di dare una spiegazione del fenomeno biologico attraverso un modello matematico. In particolare i due proposero un equivalente del fenomeno basato su un circuito elettrico. Il circuito elettrico è equivalente a quattro elementi fondamentali. Un condensatore che rappresenta la membrana bilipidica della cellula, una sorgente di corrente che rappresenta la pompa sodio e potassio, delle sorgenti di potenziale che rappresentano il fatto che il sodio e il potassio hanno concentrazioni diverse dall'esterno all'interno della cellula e in ultimo delle resistenze non lineari che modellizzano il fatto che a livello microscopico ci sono dei canali per il passaggio di questi ioni e questi canali per il passaggio si attivano, si disattivano a seconda del livello di tensione presente in quel momento all'interno della cellula. A livello matematico questo circuito elettrico equivalente si traduce in un sistema di equazioni differenziali non lineari che poteva all'epoca essere risolto numericamente. I risultati di questo modello erano in grado di predire perfettamente il comportamento osservato sperimentalmente ma non solo, riuscivano anche ad adattarsi altri tipi di specie, altri tipi di specie ioniche ad esempio in altri sistemi e quindi furono alla base non solo di questo premio nobel nel 63 in medicina e fisiologia ma anche di due premi nobel successivi nello stesso campo. In conclusione l'importanza di questo studio non fu la sola scoperta scientifica ma anche la grande rivoluzione concettuale che ha operato. Infatti se già all'epoca sia i clinici che i biologi lavoravano sperimentalmente con modelli per esempio di culture cellulari questo studio ha dimostrato l'importanza dell'uso della matematica come strumento predittivo che serve da lente di ingrandimento che è in grado di spiegare la realtà biologica che ci scoperta. Grazie a tutti.